Ragazzi oggi voglio parlarvi di un trucco che vi permette di raggiungere in mix voci potenti e profonde come sempre avete desiderato. Questo riguarda l'utilizzo del riverbero, del delay ma anche dell'expander gate e del sidechain. E la cosa bella è che questo tutorial l'ho fatto esclusivamente con plugin gratuiti, quindi è replicabile da tutti voi scaricando questi plugin del tutorial con il link che vi lascio in descrizione. Ma andiamo subito in Cubase, allora ho una traccia vocale qui di una canzone molto famosa, è una cover, questa era una traccia vocale di una cover che ho registrato anni fa, ma ascoltiamola subito. Avete riconosciuta? Ve la mando un po' qui davanti. Avete capito no? Comunque la prima cosa che ho fatto è processare un attimo la voce, giusto un processamento veloce, anche questo ho fatto con plugin gratuiti. Ecco questi qua sono tutti i processi che ho fatto, ma vi spiegherò in un altro tutorial come mixare la voce con solo plugin gratuiti. Allora, questa voce, questa canzone lo chiama quasi da solo un reverbero e un delay molto importanti, quindi un ambiente molto profondo che dia profondità e potenza alla voce. Ma farlo non è così banale e scontato, perché è vero sì, apriamo i reverberi e abbiamo i delay, mettiamo un bel reverbero grandissimo con una coda lunghissima, anche il delay molto lungo. Però poi quello che succede quasi sempre è che tutta la voce si impasta, che tutto il suono diventa impastato e ingolfato. Ed è proprio qui che sta il nocciolo del tutorial. Vi spiego come ottenere una voce profonda e potente senza che si impasti. E questo prevede l'uso di un expander gate e anche di un sidechain. Allora, la prima cosa da fare è creare tre gruppi. Il primo sono le prime riflessioni, il secondo è il reverbero e il terzo è il delay. Ho usato l'old school verb che è gratuito della Voxango Reverbero per fare le prime riflessioni, poi ho usato un Valhalla Supermassive per fare il reverbero e un Valhalla Free Echo per il delay. Sentite che coda lunghissima, bello tutto profondo, ma immaginate questo reverbero con questa coda lunghissima. Sì, è molto potente, però poi va per forza ad ingolfare tutto il mix, va per forza ad inficiare su tutti gli altri elementi del mix. Quindi vi faccio vedere come tratto il reverbero e il delay. Allora, le prime riflessioni, ok, vi ho spiegato già tante volte come le ho fatte. Sono mono, hanno un pre-delay molto corto, una stanza molto corta, vanno a colorare la voce, eccetera, eccetera. Vi lascio i link in descrizione in cui vi parlo dell'applicazione del reverbero e delle prime riflessioni. Cosa ho fatto a reverbero? Qui c'è il Valhalla Supermassive e sono andato qui in preset, ho messo reverbs ed in C-large ho messo questo preset qui. E l'ho modificato mettendo il mix al massimo, modificando un po' il delay, il feedback e basta. Mi sembra comunque poter prendere come buone queste impostazioni che ho fatto io. Poi, cosa ho fatto? Ho applicato un gate. Questo è l'Effector Silencer, vi lascio il link in descrizione per scaricarlo. E il risultato è questo qua. Sentite come si accorcia prima il reverbero? Possiamo mettere anche un po' con il rilascio un po' più corto. Sentite come si guida subito? Invece se lo disattiva... Molto lungo. Invece così è molto più corto. E' stato tutto qui il segreto. Mettere un reverbero molto lungo, molto potente, con una coda bella lunga e poi tagliare la coda con un expander gate oppure con il gate. Questo settaggio è buono in questo caso, bisogna smanettare un pochettino con i parametri per trovare il giusto attacco, il giusto rilascio e la giusta soglia. Quindi c'è un po' da lavorarci. Però il risultato è molto buono. Poi, sempre sul reverbero, un compressore in sidechain. Questo non è gratuito, però qualunque DO ha il proprio compressore nativo con cui effettuare il sidechain. Quindi io con questo pulsantino lo attivo e mi scelgo Alleluia Box, che è la voce, come chiave per andare a comprimere il sidechain. La cosa buona è che, avendo messo prima il gate, posso usare il sidechain in maniera molto più blanda, quindi evitare artefatti strani. E poi, se avessi usato solo il sidechain, è vero che quando canta la voce il reverbero e il delay si abbassano, però la coda mi rimane sempre e la coda mi va ad inficiare sugli altri strumenti del mix. Quindi la tecnica del sidechain sopra il reverbero e sopra il delay, sì, funziona un pochettino, ma senza un gate non funziona molto bene. Perché il problema dei reverberi molto grossi e potenti sono le code molto lunghe. Quindi vediamo un po' il sidechain come funziona. Ok, basta veramente poco, con una razio di 2, un rilascio abbastanza abbondante e un attacco veloce. Riusciamo a comprimere il reverbero solo quando serve e la voce è più intellegibile. Ovviamente le stesse operazioni vanno fatte anche il delay. Faccio sentire il delay. L'ho impostato così, ho messo delay sincronizzato a un quarto della griglia, ho messo un feedback del 14% e ho tagliato molte le alte perché le volevo un po' più scure. Ovviamente mix a 100% e l'ho messo in mono perché lo stereo del Valhalla Free Echo mi fa il delay stereo ma con i canali controfasati. Quindi quando metto in mono il delay quasi mi sparisce. Quindi il Valhalla Free Echo è bello di delay ma usatelo esclusivamente in mono. A meno che non vi interessi la monocompatibilità. Quindi il delay Metterò gli stessi parametri che ho messo sopra il gate della voce grosso modo e la compressione in sedicene è anche più o meno uguale, cambia un pochettino la soglia e basta, è leggermente il rilascio. E il risultato finale è questo qui. Vedete che mi si stingo il reverbro e il delay in maniera più veloce anziché avere una coda molto lunga. Vi basterà applicare questo trick su quelle voci che mix hanno bisogno di un reverbro molto profondo e potente. Aggiungo fondamentalmente ho fatto questo video perché la tecnica del sedicene sopra il reverbro e sopra i delay non l'ho mai vista applicare a nessuno. Ho visto solo pochissimi video in italiano che parlano del sedicene sopra il reverbro e sopra il delay e non mi è piaciuto per niente. Tutti mettono il sedicene sopra il delay e sopra il reverbro senza pensare di andare a controllare proprio le code del reverbro e del delay. E quindi vi ho portato il mio personalissimo trucco che uso spesso per avere voci enormi, grandi e potenti.